a cosa attribuisci questo successo anche così duraturo perché ormai siamo andati oltre 18 anni vero con le Wings quindi siamo avventi ormai quindi hanno superato abbondantemente la maggiore età sì ma io penso che il segreto delle Wings siano tanto che siamo riusciti a rinnovarle nel corso degli anni e delle varie serie in termini di contenuto, di intreccio narrativo e anche di grafica e di stile, musica, un po' tutto ecco abbiamo sempre cercato di portare delle novità in ogni stagione nuova nelle Wings e poi che hanno in realtà invece il DNA delle Wings, c'è questo segreto primordiale per cui sono così ben distinte come ragazze diciamo hanno delle caratteristiche anche che erano forse più moderne e hanno 20 anni fa rispetto a Wings che sono un po' più diciamo normali per certi versi benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento nel nostro salotto digitale quest'oggi in veste nuova, in una veste dedicata al look a commons and games sono davvero molto molto adorato e felice di avere qui con noi Iginio Straffi papà possiamo dire delle Wings ma anche tanto altro, fondatore di tutto quanto un mondo di tutto quanto l'universo della Rainbow ciao Eginio grazie per essere qui con noi ciao, grazie a voi che abbiamo invitato partiamo dall'inizio proprio del tuo percorso a proposito di fumetti dal tuo primo fumetto un pochino disegnato all'età di 8 anni se hai 7-8 anni nella tua cameretta ha oggi leader di un'azienda nel settore dell'intrattenimento che davvero ha varcato i confini nazionali e diventato anche internazionale con delle produzioni famose in tutto quanto il mondo ma allora i sogni possono diventare realtà? beh guarda, se diciamo c'è qualcosa di cui sono abbastanza fiero di aver fatto questa mia carriera predatoriale, comunque di produttore, regista e quant'altro e che vorrei poter essere uno dei modelli insomma che magari anche i ragazzi di oggi possono prendere e avere a mente quando pensano come la maggior parte che i sogni restano sogni e che la realtà è ben diversa e non è facile appunto arrivare dove si vuole arrivare io ho avuto quest'idea fin da bambino come ricordavi di scrivere, inventare personaggi disegnare, girare film e quant'altro e avevo il mondo contro perché chiaramente dalla famiglia che ti dice giustamente di avere sogni più realistici e aspirare a professioni più normali diciamo soprattutto in provincia dove sono cresciuto io ecco diciamo data tutti che mi dicevano che ovviamente l'opi del disegno è bello però non pensare di farne un lavoro oppure registi bisogna essere in un ambiente frequentare certe lobby eccetera e quant'altro insomma tutte cose giuste che poi in realtà ho riscontrato che non era facile dalla provincia creare qualcosa come la Rainbow però con tanta tanta passione, dedizione, tenacia alla fine ecco io qualcosina sono riuscito a fare di quello che sognavo da bambino e quindi io mi auguro che tanti altri bambini e ragazzi possano sognare e realizzare delle bellissime imprese quando sono più grandi e dire anche più di qualcosina voglio dire data l'importanza anche che ha nel settore la Rainbow oggi e l'orgoglio anche italiano perché ricordiamolo non è facile soprattutto essere italiani e poter produrre contenuti di questo tipo ecco ma la tua carriera è partita proprio da anche un'altra casa che è molto importante come la Bonelli ancora prima ovviamente della fondazione di Rainbow cosa hai imparato come diciamo all'interno della tua gavetta in quel periodo in Bonelli appunto? Ma diciamo che la gavetta intanto da Bonelli sono tutti dei professionisti diciamo che non è che sono assoluzioni all'interno della Bonelli però sono dei professionisti che prestano il loro servizio come sceneggiatori come disegnatori o entrambi per realizzare questi fumetti ecco l'insegnamento più importante che ho avuto da questa professione è che bisogna essere molto disciplinati per sedersi al tavolo ogni mattina alzandosi a notte fonda e aver creato qualcosa perché diciamo nonostante per noi giovani le scavenze non fossero tassative però c'era un arco di tempo in cui uno poteva realizzare queste 96 tavole di un albo di Bonelli per cui bisognava consegnare un tot di lavoro ogni mese per far vedere che c'erano degli stati di avanzamento e quindi diciamo la disciplina per un giovane di sedersi al tavolo un giovane come me curioso e veniva attratto da mille cose mille stili diversi, mille nuovi stimoli da film o da altri artisti ecco la disciplina di Bonelli è che si inizia con uno stile con un tipo di linguaggio registico diciamo così la storia si finisce con lo stesso perché non si può a pagina 37 invece di usare i neri per fare le ombre e cominciare a fare i tratteggi o fare una linea chiara belco-francese insomma ecco quindi che era quello che purtroppo il rischio che si ha invece da giovani quando si ama sperimentare si è ancora alla ricerca del proprio stile e si vive di mille altri come dicevo prima prodotti, stimoli che arrivano da altri media che poi noi cerchiamo di fare nostri e quindi da Bonelli poi di fatto voglio dire sperimentare ti ha portato a produrre poi i tuoi grandi successi perché poi da un esperimento particolarmente riuscito sono nate sono arrivati i cari successi sono nate le magnifiche Wings che sono diventate un pochino anche un fenomeno globale potremmo dire a cosa attribuisci questo successo anche così duraturo perché ormai siamo andati oltre 18 anni vero con le Wings quindi siamo avventi ormai quindi hanno superato abbondantemente la maggiore età ma io penso che il segreto delle Wings siano tanto che siamo riusciti a rinnovarle nel corso degli anni e delle varie serie in termini di contenuto, di intreccio narrativo e anche di grafica e di stile, di musica, un po' tutto ecco abbiamo sempre cercato di portare delle novità in ogni stagione nuova delle Wings e poi che hanno in realtà invece il DNA delle Wings c'è questo segreto primordiale per cui sono così ben distinte come ragazze diciamo hanno delle caratteristiche anche che erano forse più moderne hanno 20 anni fa rispetto a uongi che sono un po' più diciamo normali per certi versi, certe cose che abbiamo all'interno delle Wings ecco e quindi diciamo questo semi, questo DNA così particolare così autoidentificativo per le ragazzine che trovano qualcosa di loro in ognuna di queste ragazze che le fa appunto sognare anche a loro di voler essere una Wings di voler vivere certe avventure come loro le porta ad essere un modello che con le nuove generazioni ha sempre il suo fascino perché appunto ha questa forza iniziale sì perché poi nelle Wings c'è anche questa tematica fondamentale che è quella un po' dell'empowerment femminile le Wings prima di molte altre, altri personaggi femminili dei caratteristiche animali rappresentano un po' questa forza femminile appunto dove la figura femminile non è solamente quella che paradossalmente viene salvata da un principe ma al contrario sono spesso le Wings che aiutano i loro colleghi diciamo del sesso opposto potremmo dire questa novità ci è giunta adesso anche attraverso la Disney penso con Frozen dove c'è stata questa coppa avvolgimento però effettivamente è venuta parecchi anni dopo ecco ma in questo c'è diciamo un momento nella storyline delle Wings o comunque una sorta di appunto episodio che tu preferisci qualcosa che tu ritieni chiave nel quale diciamo rivedi maggiormente il tuo spirito creativo diciamo io amo molto ovviamente tutte le prime tre stagioni che sono state scritte come ricordo sempre insieme quindi con questa pazzia visionaria di chi dice no non riesco a saurire questa storia almeno dargli i contorni principali di questa saga se non ho almeno a disposizione 78 puntate e un film perché anche il primo film in cui c'è forse questo elemento di cui mi domandavi era già parte integrante di quello che era la saga principale quindi quello che doveva essere scoperto dai fan perlomeno fino a lì assolutamente bisognava arrivarci a amare le Wings e conoscere e conoscere a fondo e nel film dicevo c'è questo gioco che mi sono divertito a creare appunto sempre in anticipo con i tempi per cui a un certo punto c'è il fidanzato di Bloom chiamiamolo così questo Sky che diventa il bello attormentato quindi dalle streghe viene messo in questa condizione per cui lui diciamo è nel secondo film scusate avevo detto il primo ma prima era la ricerca dei genitori per cui c'era la storia di Bloom da dove viene lei da domino che è stato svilato con il primo film ecco nel secondo film c'è questo gioco per cui appunto il principe è sovattormentato e lei che a un certo punto come principessa invece azzurra lo risveglia e lo salva lo salva quindi ho giocato con l'invertire spesso questo ruolo ci sono questi archetipi che vengono un po' più divertiti e che diventano anche Speck Jones assolutamente moderna sei stato un po' anticipatario anche di tanto dei tempi appunto rispetto a ciò che poi è avvenuto volevo chiederti ma poi effettivamente la Rainbow è 100% made in Italy potremmo dire soprattutto come ideologia come anche struttura vera e propria ma poi alla fine ecco qual è diciamo il plus valore che ci può distinguere rispetto a una produzione internazionale perché spesso quando si producono cartoni animati o produzione di questo tipo si pensa sempre o all'America quindi lato Disney oppure alle grandi produzioni penso a Miyazaki quindi le grandi produzioni ovviamente giapponesi noi al mercato come italiani e come Rainbow cosa possiamo, cosa si dà effettivamente di più e quale invece magari è quella caratteristica che vorremmo un attimino così sottrarre invece dagli altri in qualche modo se ce n'è una ovviamente ma noi diciamo per assurdo ci siamo posti sia generazionalmente che per posizione geografica un po' in mezzo dico questo appunto perché la mia generazione è cresciuta con l'arrivo dei cartoni giapponesi che prima non c'era quindi per esempio nel tempo di mio padre c'erano solo Disney e Warner e Anne Barbera per l'interno abbiamo visto anche noi quelle repliche della Rai eccetera ma noi c'è arrivato da ragazzi questo bambino questo shock di questo storytelling completamente diverso di queste puntate lunghe che facevano parte di un arco narrativo ancora più lungo per arrivare a completare una storia da hiding point anche una storia diciamo europea non è hiding raccontata dai giapponesi è diventata un'altra cosa rispetto a come l'avremmo fatta come la facevano gli americani quindi questo proprio diciamo essere nati in questo periodo io e i miei collaboratori ovviamente con cui lavoro che hanno appunto anche le stesse influenze giapponesi non solo Disney ma anche Miyazaki appunto ha fatto sì che per sensibilità perché noi abbiamo come dire creato forse questo mix perché le stesse wings in America per molti anni le credevano un ennesimo cartone giapponese che era arrivato sugli schemi americani mentre leggeramente parlando con i giapponesi a me mi dicono il problema delle wings che non sono l'unico paese dove non sono mai andati in onda un mercato molto difficile per i giapponesi è perché sono troppo occidentali ecco il disegno comunque anche se ha dei tratti manga e come dicevo che abbiamo preso più per lo storytelling che non è più complesso su più livelli con un arco narrativo di 26 puntate ma ogni puntata ha una rivelazione di qualcosa che ti porta a nozzi e ancora di più perché come ho detto io mi sono preso addirittura 78 puntate in film per raccontare nella saga in dettaglio quindi questo storytelling è tipico dei giapponesi quindi non era stato usato prima delle wings per produzioni io nelle produzioni precedenti tra mia oscar prezzi quant'altro mi ero preoccupato di fare sempre gli episodi autoconclusivi come ci richiedono le televisioni in occidente che ci fosse un episodio del natale l'episodio di adoro l'episodio del primo giorno di scuola quindi c'è tutta una serie di stereotipi chiamiamoli così che vengono gesti insomma in occidente per realizzare una serie nuova a cartoni animati la semplice complicazione della storia con un riassuntino e una cosa di cosa succederà nel prossimo episodio tipica dei cartoni giapponesi è molto raro era molto raro perlomeno prima delle wings che venisse realizzate in occidente e invece visivamente sì ci sono dei tratti perché sono umani e i cartoni giapponesi come i supereroi della marvel hanno protagonisti umani spesso non animali che ti dico anche quello della cultura americana da disney poi che usano questi animali antropomorfi per raccontare la nostra società ecco dicevo quindi il fatto che siamo umani il fatto che ci sono delle somiglianze in alcune nella regia di alcuni episodi di alcune cose c'è che fanno sembrare un po' giapponese però per i giapponesi chiaramente non avendo risposto a quelli che sono i dettami proprio specifici senti segno dei cartoni e dei fumetti giapponesi perché gli occhi nostri sono diversi le mani sono diverse le inquadrature taglio eccetera quindi alla fine per loro non è non è giapponese ricordo solo che non è giapponese insomma a proposito sempre diciamo di questo di questo lavoro di grande creatività che svolgete in Rainbow che tu svolgi anche in prima persona con tante produzioni abbiamo parlato delle Winx ma potremmo parlare di Antic potremmo parlare veramente sono tanti adesso i due anche quegli ultimi nuovi che si rifanno che raccontano tanto della nostra tradizione penso per esempio a Pinocchio bellissimo i gladiatori esatto i 44 gatti anche sì e ora volevo chiederti ma adesso si parla tanto specialmente ad Hollywood del problema o dell'opportunità anche dell'intelligenza artificiale di fatto l'intelligenza artificiale che cosa potrà fare cioè il lavoro del creativo è un lavoro che andrà a essere in qualche modo ridotto da questo tipo di tecnologia oppure possiamo ci può essere un'opportunità maggiore come la vedi il tuo lato personale ma anche il lato aziendale ecco come l'affrontate questo tema ma al momento non abbiamo ancora utilizzato se non qualche mio fanantico della tecnologia che mi mostra alcuni effetti di questa intelligenza artificiale di cosa può fare a titolo di curiosità quindi per come l'ho capita io in effetti c'è un rischio per i creativi per certi versi perché ho visto scrivere dei soggetti di un episodio o di cose dall'intelligenza artificiale ho visto creare dei personaggi visivamente dall'intelligenza artificiale a richiesta di questo di quell'altro tipo di caratteristiche quindi devo dire che i risultati sono abbastanza straordinari perché l'ho visto che il rischio effettivo c'è per questo che sono anche il sciopero che si è appena concluso ora in America sceneggiatori redditori quant'altro perché in effetti sembrerebbe che l'intelligenza artificiale sia in grado di creare dei programmi che possano anche intrattenere il pubblico senza l'uso di persone che si mettono al lavoro poi i limiti non li conosciamo ancora quindi francamente più paura o più voglia di esplorare questo campo a livello personale a livello personale diciamo che io non sono un fan di questi cambiamenti quindi da creativo unisco a chi dice che bisogna lasciare all'uomo la possibilità di raccontare di scrivere cercare di emozionarci e poi però se ne mettessi il cappello come purtroppo fanno gli studio del business chiaramente dico voglio dire potrebbe questo rappresentare un abbattimento notevole dei costi di produzione ed è chiaro che oggigiorno il problema è gli investimenti che stanno troppo calando soprattutto per noi produttori indipendenti perché le piattaforme è finito il grande boom che ha creato anche un po' di bolla nel covid in cui c'era un consumo esagerato di contenuti con la gente che era a casa ora tutto il mondo i segnali sono di aver ridotto chiuso notevolmente i rubinetti degli investimenti sui contenuti e quindi è chiaro che per noi ridurre gli investimenti significa magari dover ammassare i costi cercando di tenere la qualità insomma a un buon livello pertanto diciamo che ci sono queste due anime che convivano in me da quando da semplici teatore e disegnatore e teatore di storia e disegnatore mi sono messo un'impresa che conta migliaia di persone sparse tra Europa e Nord America e questo è un merito che ti va dato perché sai di solito la mente creativa solitamente è quella che tra virgolette è detta in maniera proprio semplice e difficilmente è quella che poi riesce a far quadrare anche i conti invece nel tuo caso sei riuscito a essere creativo quindi a presentare poi la tua a rappresentare la tua creatività ma a tenere anche voglio dire la barra dritta rispetto a un mercato che è assolutamente molto difficile da affrontare in questo diciamo tuo anche interfacciarti con il mercato poi come siete riusciti anche a intercettare il cambiamento in atto delle nuove generazioni che adesso cambiano in maniera repentina penso per esempio alla generazione X si parla dell'impossibilità di alcuni di molti in realtà di porre l'attenzione per oltre 5 minuti perché di fatto noi siamo tutti un po' abituati anche noi della generazione precedente a vivere con lo smartphone quindi con lo scroll continua quindi non abbiamo quella capacità di andare di essere sul pezzo di guardarci non lo so una serie televisiva o un cartone animato per oltre determinati minuti e tutto deve essere molto veloce e colorato come avete fatto voi a restare sulla cresta dell'onda ad intercettare comunque l'interesse anche di quella generazione che poi è cresciuta nel corso del tempo beh l'abbiamo fatto perché abbiamo sempre investito nel marketing nel digital in tutto quel mondo lì e continuiamo a investire addirittura stiamo anche guardando a teleacquisizioni in quei settori perché quella è la direzione in cui va il mondo noi ce ne rendiamo conto essendo il mercato e quindi facciamo investimenti in unico modo abbiamo persone pensate che hanno degli stimoli su produrre un film da degli youtuber piuttosto che fare una serie in certo modo ci arriva magari dal marketing che ci dice che quel personaggio a tutta questa serie di follower di grandi numeri modal digital lo stesso che ci analizza una situazione ci dice questo qua potenzialmente forte questo libro perché questo e quest'altro un numero di links capito recensioni e quant'altro quindi diciamo che viviamo molto informazioni compriamo dati Nielsen compriamo i dati di Auditel del Cintan cioè vogliamo essere ben informati su quelle che sono le tendenze e i prodotti che funzionano in questo momento ogni momento in cui abbiamo operato brevemente voglio chiederti così adesso una domanda invece rispondo totalmente personale i tuoi personaggi hanno reso e rendono felici grandi e piccini li fanno passare tanti momenti di divertimento uniscono anche le famiglie perché è un momento anche di grande unione volevo sapere invece qual è il tuo momento di felicità personale che ricordi con maggior affetto domanda difficile ma dovrei dire forse anzi ma sicuramente la nascita della primogenita perché era un evento così tanto atteso che sicuramente è valso tanti premi tanti momenti importanti della mia carriera insomma vale molto di più rispetto ad altre cose perché veramente è un qualcosa difficile da descrivere per chi non ha magari avuto questo e per me che non l'avevo mai pensato prima che potesse essere una gioia così grande un tipo di affetto di amore completamente diverso da quelli provati prima per genitori o compagni o voi quant'altro insomma e che poi ti cambiasse in certo modo anche la vita le abitudini perché poi ti devi adeguare certe cose nuove e tutto sommato appunto grazie a questa nuova magica alchimia che si crea poi neanche ti pesa avere questo questo tipo di di compromessi o di altre situazioni che devi vivere in tutti questi anni però di duro lavoro hai ricevuto sempre ciò che meritavi o ritieni di aver lasciato qualcosina indietro ma io intanto ho la sensazione di essere sempre dieci anni in ritardo con quello che voglio fare quindi purtroppo penso di essere stato lento nel fare le mie cose e poi penso che ancora non ho raccolto quello che vorrei da fronte contenuti nuovi nel mondo dell'ideaction per esempio che è una nuova sfida per me quindi oltre ai cartoni di cimentarmi attraverso prodotti colorabili film o rainbow ecco in questa nuova avventura che è quella di portare il contenuto prodotto in Italia con successo nel mondo quello che abbiamo fatto nel cartone vorrei replicarlo con il prodotto live action con tutte le difficoltà che ovviamente nella lingua italiana piuttosto che gli attori italiani non sono noti all'estero quindi non hai questa barriera però soprattutto il successo del mio nome vendetta che con Alessandro Gasman lo protagonista che è ancora al sesto posto dei film non in lingua inglese più visti su Netflix nel mondo da quando c'è il rilevamento Nilsson di Netflix ecco questa cosa qui che ovviamente è il film italiano di trallunga di maggior successo su Netflix da quando c'è Netflix ecco questo è già un segnale che anche qui stiamo cominciando a lavorare nella giusta direzione e magari tra qualche anno spero di avere qualche buon risultato anche sul fronte live action per film o serie televisive perfetto io veramente ringrazio tanto Iginio Straffi per essere stato qui con noi in questo speciale dedicato a Luca Comisi e a nostra salotto digitale di Domani Press noi come ultima domanda perafrasiamo sempre il titolo del nostro magazine e chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti come vede il domani Iginio Straffi quali sono le tue speranze le tue paure una frase una suggestione da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre ma il domani per me spero sia ancora il sogno di avere una società che non abbia più guerre non abbia più barriere diciamo ci sia un'integrazione vera tra i popoli e la paura che in realtà invece si stia andando un po' nella direzione opposta perché secondo me negli ultimi 20-30 anni la civiltà è andata indietro e tante cose che prima erano abbastanza normali adesso invece sono sono viste come non corrette e parlo anche di mondi di cia al nostro mondo mediterraneo e quant'altro dove si guardiamo l'Egitto di 30 anni fa e l'Egitto di oggi capiamo cosa cosa intendo però ecco tutto questo che sta succedendo in Russia in in Ucraina e in altri paesi mi fa pensare che la direzione non sia quella giusta purtroppo e spero che queste nuove generazioni abbiano la capacità di rimettere a posto il mondo e di andare verso un futuro più rosio per il nostro pianeta e noi ce l'auguriamo tanto e soprattutto non smettiamo mai di sognare di credere nei nostri progetti e nei nostri sogni e anche la nostra natura italiana che in qualche modo è quella che ci deve anche portare avanti e di cui dobbiamo essere assolutamente orgogliosi così come dobbiamo essere orgogliosi di tutti quanti i prodotti italiani tra cui ovviamente quelli della grande Rainbow grazie ancora Regina Stavi per essere stato qui con noi ricordo a tutti quanti i lettori e mi piace sulla campanella in basso per essere sempre aggiornati su tutti quanti i nostri appuntamenti del stradotto digitale di domani press questo è un appuntamento ovviamente dedicato a Luca Comings & Games ma ce ne saranno poi tanti altri con tanti ospiti esclusivi c'è anche la nostra sigla sullo good vibes che è possibile scaricare e ascoltare direttamente su Spotify anche questa è disponibile al link alla prossima grazie mille ciao a tutti ciao grazie ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi sta iniziando una puntata e tu lo sai domani press dimmi che ci stai ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi l'indirizzo lo conosci puoi cliccarlo dai domani press dimmi se ci stai guardiamo al futuro ma sicuro parliamo come ti dire giuro guardiamo lontano domani press come vi di domani ti prego parliamo né senza stress andiamo a fatti seguo i miei piani quali sono le tue speranze per il futuro spero che ce ne sia uno domani press è il mio canale per ascoltare tu iscriviti lo teni pentilato e lo assicuro domani press domani press domani press domani press